Musica Benvenuti ragazzi, bentornati sul nostro canale dal vostro Nico Gaming in questo nuovo video allora in questo nuovo video ragazzi oggi torniamo a parlare del wifi in casa e di come vi daremo alcuni consigli oggi per farlo andare più veloce ma cominciamo dall'inizio allora dopo anni di attesa è finalmente arrivata la fibra FTTH a casa fibra vera però stavolta, non quel surrogato fibra a rame che gli operatori continuano a pubblicizzare come fibra infatti quel piccolo cavo trasparente arriva fino all'appartamento e può portare una quantità di dati elevatissima non tutti però sono contenti, infatti è capitato per esempio soprattutto negli ultimi mesi che nonostante ci sia la fibra nuova di pacca e sia quella velocissima non si riesca a seguire per esempio una lezione a distanza o non si riesca a tenere per esempio un'importante videoconferenza con i colleghi per esempio andando tutto il video va a scatti infatti ne abbiamo anche parlato in un video infatti Sky ha chiamato la sua nuova fibra SkyWiFi e sebbene per qualcuno il nome sia assurdo infatti non è una connessione wifi ma è una connessione broadband infatti la scelta di Sky ci ricorda anche che oggi il 90% dei problemi di connessione in una casa sono dovuti purtroppo non tanto alla rete internet quanto al wifi e alle scelte fatte dalle persone infatti per molti questi concetti saranno banali ma noi crediamo che sarebbe utile dare qualche consiglio sulla connessione in casa per risolvere vari problemi per esempio possiamo fare un esempio per esempio alcune persone si sono lamentate perché per esempio la loro connessione FTTH da 1 GB per seconda va a 300 MB ma la misurazione è stata fatta con un tablet per esempio oggi infatti come sappiamo molti misurano la velocità della loro connessione usando dispositivi che possono essere smartphone o notebook ma così facendo non misurano la banda che arriva realmente in casa infatti quella che gli viene venduta da provider misurano solo la banda disponibile in casa tramite un particolare dispositivo allo stesso modo molti non si rendono conto che non si può usare il wifi per misurare la velocità della propria connessione ad internet serve il cavo infatti il consiglio numero uno è il cavo è meglio del wifi perché ovviamente il cavo ethernet è una soluzione decisamente più sicura e affidabile del wifi infatti ogni router, anche quelli degli operatori dispongono di 4 porte sul retro che sono semplici porte di rete capaci di condividere la connettività senza troppe configurazioni infatti per esempio basta collegare un cavo tra il router e il dispositivo che si vuole connettere se il modem per esempio è vicino al televisore, alla console o ad un computer fisso meglio utilizzare il cavo infatti il funzionamento sarà immediato perciò è sempre bene usare il cavo per misurare la connessione e non il wifi il consiglio numero due che vi posso dare è il modem può fare la differenza perché? perché la velocità massima di una rete wireless non può essere superiore a quella del suo modem router quindi la scelta del modem router è fondamentale infatti solitamente gli operatori offrono incomodato dei modem appena discreti ma non tutti i modem che vengono dati anche con una fibra che raggiunge per esempio un gigabyte per secondo sono poi in grado di permettere un collegamento reale a un gigabyte per secondo tramite wifi infatti i migliori modem wifi sono purtroppo non sono molto belli da vedere infatti un modem wireless che deve gestire tanti dati ha per forza di cose tante antenne e tante antenne stonano purtroppo con un buon design i modem che gli operatori danno sono un compromesso tra costo, design e prestazioni soprattutto il costo ovviamente come sappiamo per esempio un buon router costa caro per esempio prendiamo il netgear un netgear come esempio sembra infatti un'astronave visto questi fantomatici netgear che sembrano strani astronavi però grazie alle duali che nascondono le antenne permettono di raggiungere fino a 4,8 gigabyte per secondo con la rete wireless a 5 gigahertz e compatibili wifi 6 e sono pure 3 band quindi possono gestire 3 reti wireless contemporaneamente con una velocità massima teorica di 12 gigabyte per secondo all'interno delle mura di casa purtroppo come sappiamo il costo vale un bel investimento da 470 euro ma con un router simile si è certi che quello che arriva in casa viene anche ridistribuito in casa nel migliore dei modi infatti esistono ovviamente alternative a buon mercato sicuramente superiori a quelle degli operatori il consiglio numero 3 che vi posso dare è il dispositivo influisce sulla velocità perché per esempio quando lanciamo uno speed test oppure quando lanciamo uno speed test per misurare la velocità la velocità che stiamo misurando non è quella della fibra che arriva in casa ma è quella massima del dispositivo che stiamo usando per fare lo speed test e questo vale sia per un dispositivo collegato via cavo sia per un dispositivo collegato via wireless la velocità varia da dispositivo a dispositivo e anche le schede di rete dei notebook non sono tutte uguali alcuni notebook che con processore lento non riescono a dare una lettura per esempio reale della velocità della rete anche se la scheda di rete è una scheda per esempio da 1 gigabyte per secondo la stessa cosa vale anche per i moduli wifi degli smartphone per esempio un test di rete su un galaxy s20 offrirà una velocità ben più alta dello stesso test fatto nello stesso identico punto della cassa con un vecchio smartphone con un vecchio smartphone infatti uno speed test fatto con uno smartphone non restituisce mai un valore da prendere come riferimento poi consiglio numero 4 come sappiamo bene tutti il modem va posizionato ovviamente nella maniera corretta infatti è bene che il modem bisognerebbe posizionarlo al centro della casa non in un angolo e soprattutto bisognerebbe tenerlo lontano da oggetti metallici per esempio la cucina è il peggior posto dove posizionare un modem poi per esempio il router non deve mai essere posizionato vicino ad un microonde e soprattutto non è meglio posizionarlo in alto e mai in basso da evitare anche nicchie, posti chiusi, armadi e posti dove arrivano tanti file e tanti campi elettromagnetici infine se un router ha due antenne andrebbero posizionati in modo perpendicolare per una migliore copertura poi il consiglio numero 5 è attenzione al traffico e al vicino perché come sappiamo oggi la tecnologia wifi usa varie frequenze per esempio 2,4 GHz e 5 GHz una rete 2,4 GHz ha velocità inferiore ma ha una portata maggiore una rete a 5 GHz ha una portata inferiore ma può raggiungere velocità più elevate per esempio un segnale a 5 GHz inoltre è più sensibile agli ostacoli ai muri di casa e è perfetto per gestire periferiche nella stessa stanza ma non per connettere un notebook ad un router se ci sono 3 muri tra i due dispositivi ovviamente oggi i router più intelligenti riescono a creare una rete con un unico nome e ogni volta in base al dispositivo che si collega decidono se fare una connessione a 5 o a 2,4 GHz questo secondo ovviamente delle condizioni di rete e del dispositivo connesso però prodotti vecchi con diversi anni alle spalle potrebbero infatti essere sprovvisti di connessione a 5 GHz e avere solo il wifi a 2,4 GHz infatti il wifi usa inoltre determinate frequenze che non sono occupate solo da noi infatti a 2,4 GHz infatti ci sono anche i dati dei vicini di casa infatti anche loro per esempio possono avere un router e anche loro hanno bisogno di internet anche loro usano i 2,4 GHz come li usano i microonde o per esempio i telefoni portatili, i cordless tutti i dati che vanno ad intassare quell'autostrada wireless che permette ai nostri computer e ai nostri smartphone di restare connessi questa autostrada come sappiamo ha diverse corsie denominati canali i modem solitamente scelgono in automatico i canali liberi ma spesso questa selezione non è precisa purtroppo e siamo costretti purtroppo a viaggiare su canali trafficati dove andiamo più piano del previsto in questo caso esistono diversi utility che permettono di scansionare tutti i canali visualizzando il traffico della rete per esempio possiamo usare wifi analyzer per windows oppure net spot per mac o windows questi sono programmi abbastanza utili per fare queste cose e con questi programmi grazie ad una visualizzazione grafica è possibile vedere quali sono i canali trafficati e quali liberi in un determinato punto della nostra casa la diffusione dello spettro e agire così di conseguenza infatti in questo modo si può infatti dire ad un notebook di non usare un canale scelto automaticamente ma un canale specifico stessa cosa al router l'ultimo consiglio che vi posso dare consiglio numero 6 è occhio ai software sono molto importanti se arriva infatti la fibra a 1 gigabyte per secondo scebanda per tutti è difficile infatti andarla a saturare ma se abbiamo una connessione FTTC o ADSL visto che la banda non basti c'è infatti è una connessione che un operatore vende come fibra a 200 megabyte per secondo in realtà è una connessione che scarica dati a 200 megabyte per secondo se va bene ma che ha una velocità di upload quindi di caricamento dei dati verso la rete molto più bassa infatti solitamente 20 megabyte per secondo ma il valore reale potrebbe essere ben inferiore infatti spesso non si naviga o non si riesce a gestire una videochiamata per esempio perché nonostante ci sia banda sufficienza in download ad essere satura è la connessione in upload quella che nessun operatore purtroppo pubblicizza infatti con una velocità di upload limitata anche i singoli software fanno la differenza e anche la configurazione o la modalità di fruizione di un singolo programma può cambiare l'esperienza finale e noi lo sappiamo anche perché nella nostra connessione ci siamo fatti aumentare un po' la connessione in upload e questo diciamo ha significato infatti attualmente riesco a caricare i miei video leggermente più in fretta per esempio quando effettuiamo una video lezione con zoom ad esempio il nostro computer scarica più flussi video per mostrare le webcam di tutte le persone connesse e nello stesso momento carica un flusso video con la nostra webcam le visualizzazioni a mosaico consumano molta più banda della visualizzazione dove viene mostrata solo la persona che sta parlando la presenza di un sistema come OneDrive o Google Drive con cartelle sincronizzate in continuo porta ad altro consumo stessa cosa per la connessione alle VPN aziendali o l'uso di app in cloud sono tutti elementi che consumano banda purtroppo ovviamente ci sono router che automaticamente distribuiscono la banda per le applicazioni che vengono definite ad alta priorità o che permettono di impostare dispositivi per i quali la connessione è più importante di altri questa soprattutto se la connettività è una DSL o una FTTC quindi una fibra mista rame è spesso l'unica soluzione possibile per riuscire a fare una videochiamata di lavoro anche se nella stanza di fianco per esempio c'è il nostro figlio, il nostro fratello insomma altre persone che giocano online oppure che guardano film su Amazon comunque questi erano dei brevi consigli per come utilizzare al meglio il wifi in casa voi naturalmente ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate scrivendolo nei commenti voi scrivetemi nei commenti che tipo di router avete e che tipo di connessione avete scrivetelo nei commenti come sempre ragazzi lasciate un like se vi è piaciuto questo nuovo video e naturalmente ragazzi continuate a seguirci mandando il vostro supporto iscrivendovi al canale a presto per un nuovo video ciao